La successione dei sentire è l'elemento supernormale, perché è della coscienza o della sezione supernormale della mente la percezione dei fotogrammi. La successione dei sentire è l'elemento supernormale, perché è della coscienza o della sezione supernormale della mente la percezione dei fotogrammi. La successione dei sentire è l'elemento supernormale, perché è della coscienza o della sezione supernormale della mente la percezione dei fotogrammi. La successione dei sentire è l'elemento supernormale.